Conciliare i tempi casa lavoro per le famiglie e aiutare soprattutto le mamme che non vogliono rinunciare alla propria attività professionale. Sono questi gli obiettivi alla base del progetto di allargamento dell'asilo nido di Gariga di Podenzano. La struttura sarà ampliata e verranno riservati 12 posti per i figli dei dipendenti delle imprese della zona, diventando così un nido intercomunale aziendale. Il progetto è stato presentato questa mattina dal sindaco di Podenzano Alessandro Ghisoni, affiancato dal presidente della provincia Massimo Trespidi, dal presidente della fondazione Giacomo Marazzi e dal presidente di Confindustria Piacenza Emilio Bolzoni, colui che ha lanciato l'idea. La nuova sezione, riservata ai bambini dai 3 ai 36 mesi, si affiancherà alla struttura consolidata del Magica Bula, che oggi accoglie 40 bimbi. L'intervento, proposto dall'associazione industriale, avrà un costo di 250 mila euro, è finanziato dalla provincia per 127 mila euro, dalla fondazione per 90 mila euro e dal comune di Podenzano per 33 mila euro. Se tutto andrà come previsto, l'inaugurazione avverrà nel 2014. Abbiamo ragionato sulla famiglia, il rapporto della famiglia con le aziende e abbiamo capito che c'era qualcosa che non funzionava, perché nel momento in cui papà e mamma hanno o vorrebbero avere un'attività a tempo pieno in un'azienda, si crea veramente una situazione di difficoltà. Abbiamo cercato di capire qual'era lo strumento per poter semplificare questo fatto e abbiamo capito che lo strumento era un asilo. Questo ha un significato diverso dagli altri, però, perché ha significato di tradunione, fra l'altro, famiglie industrie inserite in zona industriale e quindi porta avanti ancora più il concetto di aiuto alle famiglie, alle donne che lavorano, avendo nelle vicinanze la possibilità di sistemare i bambini.